Ecco, questo prevede il neoliberismo. C'è praticamente l'usura, l'usura attraverso il mezzo monetario. Qualunque cosa tu vuoi fare, se vuoi guadagnare devi pagare l'usura. Più usi il denaro, più usura paghi. Più la tua vita dipende dal denaro, più per vivere devi pagare il pizzo agli usurai. Dopo che hai lavorato un anno prestando e regalando il tuo tempo agli usurai per ricevere in cambio del denaro su cui già c'è il pizzo e lavori sempre di più per pagare il pizzo, poi alla fine ti costruiscono queste oscenità del mare non è bastato il regalo della concordia e poi tu sei felice dopo che per un anno hai fatto lo schiavo al capitalismo dopo sei felice di comprarti una crociera a 2000 euro cioè ridai i soldi che ti sei guadagnato e loro ti fanno essere felici in un cubicolo due per due su un grattacielo del mare che non è altro che una schifezza perché ci sarebbero tanti bei posti in giro per il mondo invece no, ti devi andare a ingabbiare in un grattacielo di questi dove poi c'è tutto l'equipaggio che viene trattato da schiavo a sua volta per tu sentirti gratificato perché ti fanno da camerieri ecco, questo è il neoliberismo, questo è il capitalismo